bellaci novità per il canale bene novità per il bedford allora siccome ci stanno un paio di novità che ti devo mostrare e far vedere e ma prima di tutto ti ricordo iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto lascia un like se mi segui su facebook o instagram avrai gli aggiornamenti in tempo reale in tempo reale anche perché uscirà questo video verso fine giugno ma luglio abbiamo in programma un un piccolo tour di circa 20 giorni che veramente ti porterò in posti da paura con molti molti percorsi in off road con il generale perciò vedrai dei scenari mozzafiato non ti svelo niente ma se mi segui su facebook e instagram chiaramente sarà in tempo reale e quando io sarò su tu sai dove sto ma non ti dico niente ti devi da iscrivere e resta con me perché adesso ti porto a vedere le cose che sto andando a ritirare per il generale e te le mostro e nel frattempo partiamo per una piccola nuova avventura ti devo mostrare due tre cosettine si che il generale diventa sempre di più sempre di più fighe belle e poi sto sempre in attesa della zingarella che arriva si prepara perché quella è sempre il signore ci vuole sempre un pochettino no però siamo pronti siamo pronti stiamo per sfrenare ciao 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 arrivati la destinazione la nostra location e molto svelo che abbiamo preso qua qualche cosa dovresti vedere allora abbiamo preso un materasso piccoletto da mettere però sopra a questo che già c'avevo sopra al divano letto perché stiamo in procinto di affrontare un bel viaggio come già accennato sì e allora miglioreremo il comfort di viaggio perché staremo fuori parecchi oggi parecchi giorni stiamo apri ora migliori perché a me da una mano da te la perché a me sto a incartare aspetta io sto a provare a strappare ma praticamente andai col cortello guarda un po' ho messo uno scotch c'è una cosa così complicato ecco subito grazie ti voglio bene pure io hai preso la misura bene guarda ma certo vai e se non hai gli altri ciscini allora vetti la per terra questi non mi scusa che lo presentiamo poi montiamo tra un po' vediamo un po' sopra la sopra la eccoci qua materasso nuovo nuovo vedi perfetto perfetto non proprio come no 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 è perfetto anche perché ho fatto una piccola modifica ho allargato un po' il letto siccome è un po' corto almeno posso mettermi un po' così un po' così un po' così capito ho allargato senza metti qualcosa vabbè ma ci devo mettere il sostegno qua in fondo qua ci ho guadagnato 13 14 cm e mica sono pochi no allora sto materasso così con tutto il suo ovviamente gomma piuma come si chiama questo la fodera con la sua fodera ci è venuto 50 euro sfoderabile sfoderabile con tutta la sua zip qua no qua eccola qua che lo puoi mettere in lavatrice e lo puoi pulire miglioreremo il comfort sicuramente stanotte lo testiamo ci fanno pure l'amore non c'è cosa fa perché è vietato le prime volte ma che l'ha proprio detto ci devi fare l'amore subito per provare a vedere come va e lo proviamo subito perciò domani perciò per te sarà il prossimo video ti faccio sapere come abbiamo dormito e come si sta nel fa tempo ti faccio vedere la piccola location veloce veloce perché c'è un po' di vento perciò ti metto un po' di musica e noi cominciamo a preparare però per mangiare perché sono le 8 e 5 c'è pure fame mi pare ho comprato pure una cosa buona che ti farò vedere a hum hum bella zi 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 caggolini eccoli qua ci metti l'acqua stasera ravioli eccoli qua ravioli e lupo, pomodoro e basilico. E una bella burata che abbiamo preso al caseificio. Lo vedi, devi rimettere l'acqua. E il succo? Scusate, osservate l'intelligenza. L'insalata sotto alle cose pesanti, che lui è intelligente proprio. Te la voglio bene pure io, lo sai? Cento per cento. Grandi successi. Ready, awesome! Ok. Volevo mettere due di questi. Che dici, che è partito? Ho sentito bip. Sì, quindici dice, che vuol dire? Buttati i ravioletti, mentre la zingarella continua il rassettamento van. e organizzazione. Qui c'èmo sempre l'amico mare, se ci fa compagnia. L'acqua gelata del frigorifero, o fredda da paura, eh? L'hiamo testato, vero Romy? L'hiamo programmata a meno 20, dopo 24 ore stava a meno 10, 12. Sì, senza mai aprirlo, è vero. Però, un bel risultato pure se non arriva a meno 20. Ma ci arriva, ci arriva, piano piano ci arriva. Allora... Corriglio no! Questo lavoro non va affatto, eh. però... Per ora... Buon appetito, ovviamente. Con questa panoramica. Tiè. Senza pecorino. Senza pecorino, perché se lo siamo scordato... Eh vabbè, però che devo fare? E poi domani... Per me è domani. Per te sarà il prossimo video. Ti devo far vedere altre cose del work in progress. Però... Per me è domani. Buon appetito, Zingale. Buon appetito. Buon appetito. A prima col cucchiario ci mangio io. Però ci volevano studiare gli oli in vista panoramica. Certo, così è cura presso. Con lì sono le pontine davanti poi. Notiziamo a parlare di... Quattro, sui, sui. Molto, sui, sui. Quattro. Puoi? Puoi? Grazie a tutti. Grazie a tutti.